C'è una leggera crescita del numero delle imprese, è un fenomeno che sta ritornando a dei livelli diciamo normali dopo un periodo difficile della pandemia che aveva visto un po' una fase di congelamento sia della crescita delle imprese che la diminuzione delle stesse. Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino, commenta il tasso di crescita delle aziende piemontesi nel 2022 è stato dello 0,67%. Vanno bene i servizi come attività di consulenza, agenzie pubblicitarie di design e boom nel settore delle costruzioni rallentano invece il turismo, il commercio, l'industria e l'agricoltura dove sono di più le aziende che chiudono rispetto a quelle che aprono. Un dato significativo è sicuramente quello dei bar che purtroppo continuano un trend di diminuzione. Si consideri che in dieci anni abbiamo perso nel nostro territorio provinciale circa 1.070 bar, per contro invece abbiamo un trend di crescita delle attività di ristorazione. In dieci anni sono aumentate di 1.300 unità circa. Il 95% delle imprese sono micro con meno di 10 dipendenti, il 4% sono medio grandi, l'1% hanno più di 50 addetti. Il 70% delle aziende sopravvive dopo tre anni dalla fondazione.